Io non devo spiegarlo, lo chiedete ai cittadini, penso abbiano premiato quello che abbiamo fatto e che vogliono continuare su questa strada. Credo che la città di Venezia riprenda il proprio orgoglio. Io sono un sindaco senza tessera, abbiamo un partito che è maggioranza in città con un'alleanza di centro-destra. Potrebbe essere una formula nazionale, se dimostreremo di portare più lavoro, più sicurezza. Per quello che abbiamo fatto fino adesso, diminuire i debiti, tutte cose fatte che credo siano effettivamente utili per il futuro dei ragazzi che vogliono vivere in Italia e vivere nelle nostre città. Dobbiamo portare il lavoro e la gioia di vivere, di stare insieme, a prescindere dall'appartenenza. Governerò per tutti, non c'è differenza.